Ciao ragazze, ultimamente su Instagram ho visto questo contouring cuoricioso e ero curiosa di provarlo e oggi l'ho provato per la prima volta con voi allora per prima cosa ho applicato su tutto il viso un fondotinta leggero questo è il fondotinta Tap Tap di L'Oreal e l'ho applicato per creare una base uniforme sulla quale puoi andare a fare il nostro contouring cuoricioso poi correttore in crema chiaro, questo è della palette estetica e vado a metterlo come sempre diciamo nel contouring normale sotto gli occhi un po' a triangolo poi sul dorso del naso e poi vado a fare un cuore diciamo al centro della fronte ho usato un pennellino piccolino per fare il cuore perché sennò non si riusciva tanto bene poi ho riempito il cuore anche all'interno poi cuoricino anche sopra l'arco di cupido e al centro del mento qua era un po' difficile farlo preciso comunque ci ho provato poi matitone contouring di Kiko vado a metterlo sotto lo zigomo dall'orecchio fino a metà occhio e anche ai lati del naso dove abbiamo illuminato questo è un trucchetto per sfinare il naso poi blush in crema questi sono i garden blush di Neve Cosmetics e vado a fare due cuoricini al centro delle guance e li riempio anche all'interno poi matitone e due baci sempre di Neve Cosmetics vado a fare un cuoricino al centro delle labbra che contouring romantico questo tutto coriccioni poi Beauty Blender è della Puro Bio questa vado a sfumare prima tutti i chiari secondo me è proprio molto comoda per sfumare il contouring la spugnettina rispetto al pennello perché fa risultare tutto molto più naturale però nelle zone in cui non si può arrivare con la spugnetta sfumo col pennello poi vado a sfumare la parte scura con il pennello di Sephora il pennello per fondotinta minerale poi vado a sfumare anche i cuoricini al centro delle guance sempre con la spugnettina è molto importante quando si fa il contouring anche quello diciamo classico andare a sfumare bene però senza mischiare tutto quindi cerchiamo sempre di mantenere bene le zone divise diciamo cioè dove abbiamo messo lo scuro deve rimanere scuro dove abbiamo messo il chiaro chiaro però le zone intermedie di transizione vanno bene sfumate in modo che non ci siano stacchi di colore deve essere una sfumatura molto naturale però non tutto mischiato ecco non so se sono riuscita a spiegarmi bene quindi una volta che abbiamo sfumato per bene tutti i prodotti in crema che abbiamo messo bisogna andare a fissarli un po' con dei prodotti in polvere altrimenti non durerà a lungo la nostra base quindi per prima cosa vado a fissare i chiari con la nuova cipria di Neve Cosmetics Velvet Matte che è una cipria super super leggera che non appesantisce l'incarnato non dà l'effetto diciamo artificiale però proprio fissa bene il make up e fa durare la base più a lungo vado a fissare anche il contouring con appunto una terra scura sempre della palette estetica e con un pennello sottile sempre il pennello per sfumatura ampia vado a definire meglio è appunto il contouring in questo modo gli zigomi usciranno di più andando a spinare sotto vado un pochino a sistemare le varie sfumature con il pennello quello un po' più grande e ecco la base viso è completata devo dire che era un po' scettica all'inizio perché sembrava una cosa un po' strana però alla fine è venuta una base viso super luminosa molto molto primaverile che a me piace fatemi sapere se piace anche a voi se è così pollice in su e iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video vi mando un bacione ciao grazie a tutti